Grazie, grazie, grazie. Non hanno neanche la nostalgia che l'aiuta, proprio sono conquistati dal modo di fare della voce. Senti, ma un tuo compagno di scuola, tu te lo ricordi? Io avevo un compagno di scuola, che aveva il babbo che beveva e si ubriacava. Allora tornava a casa, allora sai, era il periodo che c'era il faccio, da poco l'entrata in guerra, e lì c'era credere, obbedire e combattere. C'era una fotografia del duce e lui diceva, ma guarda quel capone, ha voluto fare la guerra contro gli americani, c'hanno che mai narde, c'hanno ton mix tarza, ma come si fa a fare la guerra contro loro? Si perde per forza perché mandano loro. Allora veniva lì, c'era la casa del faccio vicino, diceva, ma guarda io, vada a letto lei. No, io un po' a letto. Come va? Te vai a letto. No, io a letto non ci vado, tu non mi fai punta paura. Allora veniva il 3 o 4, un manganelli, diceva, allora vai a letto. No, io non vado a letto, non ho paura. Ah, non vai a letto, o guarda se vai a letto. Allora vedeva a tirare fuori i manganelli, diceva, va bene, va a letto, ma non dormo. Ma che bravo! Ma non dormo. È bellissima, è bellissima. Andavo a letto ma non dormiva. Questo era il papà del tuo compagno di scuola. Era il papà del mio compagno di scuola che... Sono le cose che ne sono imprese. Eh sì, aveva ragione, ognuno le sue cose, ma mi piaceva molto, non voleva andare e non dormiva. No, non dormo. Ecco, senti, adesso noi facciamo una canzone che dedichiamo che mi sembra perfettamente in tema. Sei sempre nel mio cuore. Sempre nel mio cuore. Sentirete, canzone incredibile, bellissima. Canzone fatta da Lecuona, che è quello che ha fatto Maria Laos, Ibonei, Andalusia, Malaghegna, e chi più ne ha più ne mette, insomma, è uno che ha fatto qualche canzoncina, insomma. Però, pensai che questa canzone, curiosamente, e non è spagnola, venne fatta per un film americano che si chiamava sempre nel mio cuore, nel 1942, e questa canzone venne addirittura candidata all'Oscar. Fu Bianco Natale che gli portò via la statuetta, ma era lì lì. Era una bella storia, era una storia strappalacrime come si usava allora. E mi ricordo che era una certa Warren, che era una ragazzina nuova al suo debutto, che la lanciava. C'era Walter Huston, che era il papà di John, poi, insomma, che era un galeotto che era stato in galera per 13 anni. Tornava e trovava la moglie, che era la bellissima Kay Francis, che stava per risposarsi. La bambina, che era la Warren, che aveva, Gloria Warren, che aveva appunto 13 anni, non l'aveva mai conosciuto, non lo riconosceva, per cui era un grande strazzo, però alla fine lei cantava questa sei sempre nel mio cuore. e lì andò poi a gareggiare per l'Oscar, non lo vinse, ma però ebbe un successo mondiale. Tanto è vero che noi oggi lo ascoltiamo da Narciso. Posso dire una cosa, ti chiedo scusa. Il primo disco che io ho inciso nel 1946 è stato sempre nel mio cuore, che io la facevo in Italia con l'Orchestra Ferrari. Vedi? Narciso Parigi. Grazie. Tu sei sempre nel mio cuore, tutto il giorno canto mio, la canzone che fu già un eco di felicità. Tu sei sempre nel mio cuore, e ogni sera vedo te, che nel sogno vieni a me, per far venire il mio dolore. So che un dì ti rivedrò, che sarò felice ancora, e con te ricamperò il ritornello dell'amor. Primavera è rifiolita, per due e due sarà la vita, come un cantico d'amor. Tu sei sempre nel mio cuore. Tu sei sempre nel mio cuore, e ogni sera vedo te, che nel sogno vieni a me, per far venire il mio dolore. So che un dì ti rivedrò, che sarò felice ancora, e con te ricamperò il ritornello dell'amor. Primavera è rifiolita, per noi due sarà la vita, come un cantico d'amor. Tu sei sempre nel mio cuore. Narciso Parigi. Grazie, grazie. Grazie, a te. Grazie a te. Ma vi piacciono queste canzioni? Non riesco ancora a capire. Vi è piaciuta veramente questa canzone? Grazie a te.